Caro Guglielmo, ci piacciono le tue idee per il futuro? Si vede che sei un ragazzo sensibile. Eh, con tutti quei sensori. Anche a noi piacerebbe un mondo con le auto che si guidano da sole. Si pagano bollo e assicurazione. Connessioni veloci per tutti. Sempre che il tuo vicino non abbia messo la crittografia Wi-Fi. Belle, anche perché sono le stesse cose che sognavamo noi. Sì, vent'anni fa. E infatti adesso abbiamo telefoni che costano milioni di lire. E non abbiamo i soldi per la benzina. Andiamo? Andiamo. Grazie a tutti.